in Ticino, qui in Ticino lo troviamo soprattutto nelle regioni meridionali, lo troviamo in Val di Muggio, Monte Generoso, Rancate, Arzo, Laveggio, Meride, Serpiano, Monte Borglia, Denti della Vecchia e Monte Sassalto, ma si è trovato anche sul San Salvatore, si è trovato sul Mal Cantone, qualcuno l'hanno trovato sul Carnese, hanno trovato anche nella zona del Belenzonese, perché il trattupo fa nelle zone molto calcari e nei carbonati. Cosa vuol dire carbonati? Carbonati vuol dire che sono dei terreni dove c'è un hummus praticamente da... dal... dal coso del... come si dice... il resto della... della foresta... Bruciata. No, ma non è bruciata, parliamo del Tuber Melanosporum, che è il trattupo che conosciamo di più, perché i francesi sono maestri di questo trattupo e lo studiano dal 1800, adesso si riesce anche a riprodurlo, diciamo, a inserirlo in alcune piantine che poi ridaranno questo trattufo, no? Allora, i trattufi sono simbionti delle piante verdi, praticamente non riescono a nascere da soli, si devono appoggiare per forza a una pianta. l'infezione della micorizza prende... praticamente sono delle spore che vengono dal trattufo maturo, rilascia delle spore. Queste spore fioriscono... Fammi rileggia un po' perché... ... ... ...